Vaccinatevi, questo l'appello dei medici. Non è il momento di rallentare la campagna vaccinale. Sarebbe un grave errore oggi scivolare nell'illusione che l'epidemia sia finita e che non possa più nuocere alla salute. Ci sono ancora decine di migliaia di persone solo in Toscana da immunizzare, sia giovanissimi che ultra sessantenni. Il virus e le sue varianti ancora non sono state sconfitte definitivamente, per cui è importante ricevere anche la seconda dose. Così Pietro Dattolo, Presidente dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoriati della provincia di Firenze. Arrivare all'autunno con larga parte della cittadinanza non ancora protetta sarebbe un rischio troppo alto e una mancanza di responsabilità individuale, aggiunge in una nota. Ancora una volta vogliamo rilanciare l'appello a partecipare alla vaccinazione. Non serve avere fiducia nella scienza. Solo così potremo lasciarci alle spalle i rischi maggiori del Covid, che di certo ancora non è sconfitto. Sopra i 12 anni è ormai possibile per tutti prenotare un appuntamento. Non esistono motivi per non mettersi al sicuro. Per Dattolo i dati dei contagi sono aumentati nell'ultimo periodo. Dobbiamo riuscire a velocizzare le somministrazioni e richiami. Auspichiamo quindi che possano arrivare maggiori forniture per procedere ancora più spediti. Sarebbe importante inoltre, conclude, intensificare gli accordi bilaterali tra le regioni per garantire il vaccino anche durante i soggiorni di vacanza. Quando si è lontani dal proprio domicilio, aiuterebbe a convincere tutti coloro che oggi scelgono di non vaccinarsi per timore di rinunciare alle vacanze.